Buongiorno ragazzi, faccio questo breve video per la video lezione che riguarda il lavoro del paesaggio di case che dovete colorare con le tempere. Vi spiegherò due procedimenti, quello della tecnica piatta ovvero senza sfumature e poi durante questa video lezione vi spiego la sfumatura, un procedimento molto molto semplice. La tecnica piatta è obbligatoria, dovete appunto applicarla tutti. La sfumatura è facoltativa, chi vuole la fa, chi invece desidera non farla non la fa. Un accorgimento importante, quando scegliete i colori che devono riempire le varie forme del vostro disegno, scegliete dei colori che si contrastano tra di loro, mai mettere due colori molto simili vicino perché altrimenti non si costruisce in maniera chiara l'immagine di tutto il disegno. Allora io comincio subito a farvi vedere così dopo vi mettete all'opera e iniziate a dipingere. prendo il rosso, un appunto per il materiale, colori a tempera, due pennelli, uno più grande per riempire le forme e uno più piccolino, sottile, per fare i contorni perché prima si fanno i contorni e poi il riempimento. Un piattino di plastica, usa e getta, un bicchiere con l'acqua, mettete magari anche una tovaglietta sotto per proteggere il tavolo e uno straccetto per pulire i pennelli o per assorbire un po' di acqua dalla punta dei pennelli. Apriamo il colore, in questo caso prendo un rosso. La quantità circa va bene, non dovete premere tanto colore sul piatto perché altrimenti è uno spreco inutile. Se il colore finisce andate ad aggiungere. Come vi ho spiegato negli anni precedenti bagnate il pennello e più volte vicino al colore mettete delle goccine di acqua, dopodiché col pennello più grandino diluite. Ovviamente la tempera deve rimanere cremosa, non deve essere molto liquida, quindi si deve utilizzare la giusta quantità di acqua. Quando avete mescolato tutto il colore con l'acqua, cercando di lasciare il colore cremoso ma fluido, perché il pennello deve scivolare abbastanza bene sul foglio. Altrimenti se rimane troppo pastoso fate anche fatica per la tecnica che adesso dovete utilizzare. Allora intanto vi sto spiegando il procedimento della tecnica piatta, quella senza sfumatura che tutti dovete utilizzare. Poi le sfumature chi preferisce, chi vuole, chi gradisce le farà. Le sfumature sono facoltative. bagno un pochino la punta del pennello. In maniera molto precisa, se vi ricordate è un lavoro che abbiamo già fatto anche in prima media, in seconda media, dovete fare il contorno della forma che volete andare a dipingere. quando il pennello non scrive più andate a prendere il colore, il contorno si fa prima per cercare di far venire la forma ben ritagliata, ben dipinta. Dopo aver fatto il contorno potete posare il pennellino sottile, prendere quello più grande e a piccoli tocchi di pennello riempire tutto l'interno. fate asciugare bene la forma e poi dopo vicino ne potete dipingere un'altra. Quindi questo è l'obiettivo da raggiungere, obbligatorio per tutti. riempimento delle forme con la pittura tempera, con la tecnica piatta, che vuol dire senza sfumature. Adesso vi faccio vedere anche le sfumature che non sono obbligatorie. Chi vuole può provare a sperimentarne qualcuna sulle varie parti, sulle varie forme da colorare. È molto semplice anche questa, però le sfumature non sono obbligatorie. Quello che voi dovete fare come obiettivo da raggiungere è la tecnica piatta. Prima contorno col pennello sottile, poi riempimento all'interno con un pennellino più grande. Adesso prendo il marrone per colorare la parete di questo palazzo. Come vi ho detto deve essere poca, in caso se serve aggiungete. Ci mettiamo anche un po' di bianco per la sfumatura successiva che dobbiamo fare, perché sono molto carine le sfumature fatte con il bianco. Quindi anche qui stesso procedimento, dobbiamo bagnare un po' il colore con alcune goccine di acqua, girare, per crearci il nostro colore fluido, ma non troppo liquido. Fluido perché deve scivolare bene. Puliamo intanto il pennello grande, perché poi dopo ci potrà servire per la sfumatura. Prendiamo quello più sottile per fare il contorno e iniziamo come prima a fare il contorno. Ricordatevi che se volete fare le sfumature, che vi ripeto non sono obbligatorie, dovete essere anche abbastanza veloci perché le sfumature necessitano del colore ancora fresco. Due colori per sfumarsi, per mescolarsi tra di loro insieme, devono essere freschi. Poi prendo il pennello più grandino e andando a pennellare vado a dipingere l'interno. Ogni volta che il pennello non scrive più, voi aggiungete colore. Andate ad indingere il pennello nel colore. Quindi puliamo il pennello più grande e adesso vi faccio vedere come si sfuma questo colore marrone con il bianco per creare l'effetto luce ombra. Quindi il pennello deve essere pulito, completamente asciutto. Utilizzate la carta per assorbire l'acqua e si prende il bianco. In questo caso lo girate senza acqua perché il bianco deve essere molto molto denso. Ne sistemate Una macchia Qui Prendetene ancora Quindi ne sistemate una macchia di bianco all'inizio Vi faccio vedere da vicino E poi pulendo il pennello Asciugandolo completamente E picchiettando Picchiettando sul bianco Lo spostate in avanti Pulite ancora se volete tornare All'inizio perché non deve essere sporco di marrone E andate a picchiettare all'inizio per Perfezionare Molto semplice Quindi una macchia di bianco che poi va Portata Verso tutta l'altra parte della forma In questo caso da più chiaro a più scuro Andando a picchiettare come vi ho fatto vedere prima E così si crea un po' di sfumatura Quindi un gioco di luce e ombra Verso la picchiettatura Col pennello che vi ho fatto vedere prima Si viene a creare questa bella sfumatura Creando un gioco di luce e di ombra La sfumatura come vi ho detto non è obbligatoria L'obiettivo è la tecnica della pittura a tempera Tecnica piatta Fare prima il contorno E poi il riempimento I contorni sono molto importanti Per ritagliare bene nella colorazione Le varie forme E quindi evitare le sbavature Buon lavoro Per ritagliare le sbavature